Ciao a tutti, vediamo 6 segnali che stai vivendo una relazione sbagliata. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. E ti ricordo i due importanti appuntamenti di venerdì 31 gennaio 2020 a Torino, ora 20.45, il seminario dal titolo Fai volare la tua autostima, riferimento 333 15 11 703. E ti ricordo inoltre l'appuntamento di Milano Full Immersion domenica 1 marzo dalle 9.30 al 19, seminario dal titolo Autostima e Seduzione in Amore nel Lavoro, riferimento sempre a 333 15 11 703. Ti ricordo inoltre che sul canale Massimo Terramasco sono aperte le possibilità di abbonarti al canale e abbonandoti al canale avrai la possibilità di intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me. Basta andare sulla home page del canale Massimo Terramasco e accanto al tastino iscriviti, trovi il tastino abbonati, ti abboni e inizia il tuo percorso di crescita personale con me. Vediamo quali sono i sei segnali che stai vivendo una relazione sbagliata. Allora, il primo segnale è che ti stai contentando. Stai vivendo una relazione monotona, una relazione sofferente, una relazione... Insomma, stai prendendoti le briciole e stai mangiando le briciole. Quello è il primo segnale. Tu lo sai dentro che è così. Il secondo segnale è che il tuo partner è il critico più duro, il critico più severo, la persona che più di tutte ti penalizza, ti fustiga, ti tratta male. Ecco, questo è un altro segnale importante che ha a che fare con una persona che di fatto non ti vuole. Devi tenere presente questo. Comunque non ti vuole come tu vorresti. Poi, un terzo segnale molto importante è che non condividete. Ad esempio, il senso dell'umorismo. Il senso dell'umorismo è molto importante. La condivisione è molto importante. Chi condivide il senso dell'umorismo è già un passo avanti, perché ha dei vantaggi rispetto ad altre persone. Quindi condividere è molto importante. L'umorismo, l'allegria è molto importante. E poi, un altro segnale che non sei, diciamo, è la relazione sbagliata, è che non ti introduce nella sua, diciamo, nella sua intimità familiare. Non ti fa, ti presenta gli amici, ma magari, come dire, con difficoltà. Insomma, non ti vuole introdurre. Mantiene le relazioni a compartimenti stani. Questa è un'altra cosa importante. E poi, un altro fatto, è che i vostri obiettivi sono in disaccordo. Cioè, la vostra visione della vita, la vision che avete della vita, è diversa. E quindi quella lì non è una relazione giusta. E poi, il fatto è che spesso ti senti inadeguato con questa persona. Ti senti tu, ti senti come un sorta di pesce fuor d'acqua. Insomma, senti che c'è qualcosa che non va. Questo, indipendentemente dal fatto che ci possa essere una personalità forte, una personalità alta, non importa. Ma la cosa veramente importante è stare bene, poi, fondamentalmente. Ecco, quindi, se ci sono questi sei segnali, anche uno solo di questi sei segnali, significa che questa è la relazione sbagliata. E allora, se la relazione è sbagliata, devi chiudere. Perché se ti accanirai ad andare avanti in queste situazioni, non otterrai soltanto effetti contrari, otterrai soltanto di non raggiungere il tuo obiettivo e starai sempre peggio, diciamo così. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo gli appuntamenti di venerdì 31 gennaio 2020 a Torino con il mio seminario dal titolo Fai volare la tua autostima, riferimento 333-1511-703. Il seminario di Milano, domenica 1 marzo, full immersion 930-19, seminario dal titolo Seduzione, autostima, in amore, nel lavoro. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao! Ciao!